Si chiama Sex Roulette, una challenge, ovvero una sfida lanciata su internet e destinata agli adolescenti. Del gioco però nella Sex Roulette non c'è nulla. La sfida consiste nell'avere rapporti sessuali di gruppo non protetti con altri ragazzi sconosciuti. Le ragazze che restano incinte perdono. A scoprire l'esistenza di questo incredibile e allarmante fenomeno, un'avvocata è impegnata in incontri sul tema della sessualità nelle scuole. È stato durante una di queste occasioni a Roma che l'avvocata è stata avvicinata da una quattordicenne che le ha confessato di essere al sesto mese di gravidanza, rimasta incinta proprio per colpa della Sex Roulette. La ragazza non aveva idea di chi fosse il padre, eppur avendo deciso di tenere il bambino, aveva ancora un grande cruccio, quello di aver perso la challenge.